Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite Sfide fai centro in centro Oggi vi spiego come completare la missione di eseguire uno dei salti acrobatici sulla gru sul treno sopraelevato o sulla recensione in meno di 60 secondi Una volta completata questa sfida ci andrà a dare come premio lo skateboard con la wrap del cubo Kevin Fantastico ragazzi Ragazzi questa sfida è facilissima Utilizzeremo la parte centrale, che cosa succederà? Ci andremo a rigenerare Eccoci qui E per completarla utilizzeremo il treno sopraelevato Quindi ragazzi scia centrale Eccoci Seguite il mio stesso tragitto ovviamente Scendiamo da qui Saltate Ok è andato E segui uno dei salti Ok fatto ragazzi Quindi non vi basterà altro che superare questo ponte qui su Ricapitolando ragazzi Vi starta la partita Vi rigenerate Prendete la scia centrale E continuate a scendere Bustate, bustate, bustate E saltate Raga metodo facilissimo Io spero di esservi stato d'aiuto Se così fosse raga vi invito a lasciare un bel like Condividete il video con tutti i vostri amici Fatevi vedere come completare questa missione in un modo super veloce Noi ci becchiamo nel prossimo video guida Un salutone da Martex See ya brothers Noi ci becchiamo nel prossimo video Ciao